salve ragazzi ben ritrovati vorrei andare a braccio con questo video perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore e tra l'altro come potete vedere sta anche venendo trattato sulle riviste nazionali che è una cosa particolare diciamo che è un argomento che riguarda i picchiaduro ma in realtà non solo è qualcosa che abbraccia un po di aspetti della vita umana e soprattutto delle nuove generazioni quindi da boomer da insegnante da almeno ex pedagogo volevo parlare di questo aspetto scendendo magari un po più nel filosofico perché di solito parliamo di mazzate quindi non è che ci siano discorsi sui massimi sistemi da fare però io ho anche un'altra natura che è appunto quella di didatta e quindi questo argomento mi sta particolarmente a cuore e ne approfitto per parlare della generazione corrente nei picchiaduro e anche al di fuori quindi nella generazione di giocatori o comunque di fruitori di medium videoludico o comunque di persone che si approcciano ad un ambito competitivo qualunque esso sia che sia scolastico che sia videoludico eccetera eccetera prima di proseguire con il video vi ricordo se vi piace quello che faccio di supportarmi con un like e un'iscrizione al canale seguitemi sui social trovate il link in descrizione e venitemi a trovare in live riportiamo prima la notizia secondo arada i giocatori moderni non vogliono perdere fondamentalmente quindi uno dei motivi per cui i giochi di squadra funzionano così bene io penso ovviamente al league of legends è che si può sempre dare la colpa all'altra persona al team scarso eccetera eccetera diciamo che questo secondo me non è un modo sano di vedere le cose e a controprova di questo c'è il discorso che lol sicuramente non è un ambiente sano in cui trascorrere le proprie giornate quindi o meglio può essere un ambiente sano in certi casi lo è però chiunque giochi a lol non me ne parla bene diciamo io stesso ho avuto una piccola esperienza con quel gioco e penso che mi abbiano insultato i familiari una decina di volte all'interno di cinque partite ed erano le mie prime cinque quindi diciamo che per quanto mi riguarda per esperienza diretta non non mi sembra proprio un ambiente idilliaco non che i picchiaduro lo siano però diciamo se dobbiamo prendere ad esempio il discorso dei dei moba o dei giochi a squadre diciamo che non è che lì la gente sia tanto contenta di perdere anzi tuttavia ovviamente arada parla dal punto di vista aziendale dal punto di vista aziendale sicuramente questi titoli hanno più utenza rispetto ai picchiaduro proprio perché si può accusare il compagno di squadra di essere scarso e in un certo senso funziona come una sorta di barriera psicologica personale perché se io biasimo se io me la prendo con il mio compagno che sia vero o no comunque non me la prendo con me stesso quindi mento a me stesso e mi sento grande e forte perché il discorso che faccio è sì ha giocato male il mio compagno io non avevo colpe io ho giocato perfettamente e quindi è colpa dei miei compagni scarsi se non riesco a salire cosa ovviamente non vera però la gente si crogiola in questo e non deve fare i conti con la propria inettitudine con le proprie con i propri difetti forse inettitudine è un termine un po troppo forte con i propri difetti con i difetti del proprio gameplay nei picchiaduro ovviamente questa cosa non è non avviene perché essendo dei giochi uno contro uno ci si scontra con i propri problemi quindi non ci si scontra soltanto con l'avversario ma si è esposti a quelli che sono i difetti del proprio gameplay quindi se si perde si perde non c'è un compagno a cui dare la colpa certe persone provano a dare la colpa alla lag all'avversario che spamma eccetera eccetera ma diciamo che comunque a prescindere si è di fronte a se stessi e a nessun altro quindi si è molto esposti nei picchiaduro questo secondo Arada è uno dei motivi per cui i picchiaduro vendono meno rispetto ad altri titoli diciamo che questa è una cosa giusta questa è una valutazione giusta che io stesso durante le mie live ho fatto concordo con questo aspetto concordo con il fatto che i picchiaduro ti mettano più spesso di fronte alle tue mancanze sono esposti nel bene o nel male perché se sei bravo si vede se sei scarso si vede e non c'è niente che tu possa fare se non metterti sotto e studiare quindi questo aspetto diciamo lo condivido con Arada ciò che non condivido con Arada è la conclusione a cui arriva perché lui dice dovremmo cercare di far vincere più spesso le persone tipo mettere i giocatori in condizione di giocare a squadre e quindi dargli un po' uno spauracchio dargli un po' un qualcosa da accusare in caso di sconfitta quindi rendere i picchiaduro meno individuali in modo da fornire scuse perché di fatto di scuse si tratta ai giocatori in questione quindi non mi piace questa conclusione perché anzi io parlo proprio da insegnante parlo da didatta non è così che si manda avanti la società purtroppo la società sta andando in questa direzione perché di fatto anche per la mia esperienza di insegnante i genitori tendono a perdonare molto di più i figli tendono a non fargli subire le sconfitte della vita però questo di fatto li ramollisce perché io ritengo che la sconfitta sia non soltanto fisiologica ma auspicabile perché se la si guarda come un momento di crescita serve a far formare la personalità se togli alla persona il momento della sconfitta la persona di fatto non cresce e porca miseria se almeno nei videogame non simuliamo questa cosa perché secondo me i picchiaduro sono molto formativi da questo punto di vista perché ti insegnano che c'è sempre qualcuno più forte di te ma ti insegnano anche che lavorando sodo, imparando o cercando consiglio si possono superare i propri limiti quindi secondo me questo messaggio positivo nei picchiaduro deve rimanere e guai se va via perché è l'aspetto più bello forse perché forgia la personalità in una certa maniera ti aiuta ad essere umile ti aiuta a capire che sì magari puoi essere forte ma ci sono altre 40 persone che sono 10 volte più forti di te bisognerebbe insistere secondo me sul discorso che la sconfitta è un momento formativo che va bene perdere non impedire alle persone di perdere farle vincere sempre si creano dei mollaccioni in questo modo non è una cosa positiva secondo me e ho capito caro Arada che devi vendere però non stai formando una community sana in questo modo cioè se decidessi di prendere questa strada non formeresti una community sana magari venderesti di più ma secondo me la gente ha bisogno dei picchiaduro perché i picchiaduro ti insegnano che cosa significa sviluppare una disciplina che cosa significa accettare la sconfitta chi non l'accetta viene tagliato fuori ed è un processo naturale questo quindi se almeno nei videogame non lo facciamo che generazione successiva vogliamo avere ripeto posso capire l'esigenza aziendale di vendere di più e probabilmente l'analisi è corretta mettendo i giocatori sempre più in condizioni di vincere con poco sforzo dandogli la gratificazione immediata magari si vende di più a breve termine però a me dispiacerebbe molto perdere il valore formativo della sconfitta io stesso sto notando delle grosse differenze nello streaming rispetto a qualche anno fa io ho sempre cercato di pormi come una persona fallibile e penso che questo sia non soltanto perché sono penso una persona genuina di carattere sono una persona che non ha paura di mettere in pubblico i propri difetti e le proprie criticità e secondo perché io credo che anche questo abbia un valore formativo perché io non voglio sembrarvi lo streamer o lo youtuber infallibile voglio mostrarvi che ho dei difetti anche a livello di gameplay anche nei picchiaduro infatti ogni volta che qualcuno mi dice sei fortissimo eccetera eccetera rispondo di no che anche io ho dei miei difetti ma soprattutto mostro in streaming che è giusto perdere perdo un sacco di volte in streaming è giusto anche arrabbiarsi questo è un altro aspetto che non ho mai trattato in questi video è giusto arrabbiarsi per una sconfitta perché altrimenti significa che non ci tieni però ti devi arrabbiare in maniera costruttiva io mi arrabbio spesso sento la sconfitta ma non per questo cerco scusanti o cerco di scaricare la colpa su altro e soprattutto l'aspetto che voglio che passi è che a furia di perdere a un certo punto si comincia a vincere ma non bisogna fuggire dalla sconfitta né la sconfitta è un'umiliazione la sconfitta è un momento formativo indispensabile e non soltanto indispensabile ma anche presente in ognuno nessuno ha soltanto vinto e chi ha soltanto vinto nella vita non è una persona completa secondo me più una persona ha capito di essere fallibile più una persona è riuscita a fare i conti con le proprie criticità le proprie debolezze i propri difetti che sono presenti in chiunque non esiste una persona senza difetti e più ne esce meglio ne esce migliore cresce se togli questo momento formativo è un disastro secondo me almeno nei picchiaduro cerchiamo di preservarlo un'altra cosa che faccio vedere sempre è che io faccio sempre cagare all'inizio prendo un sacco di schiaffi e li prendo pubblicamente non lo nascondo cioè ci sono delle live che faccio su certi giochi in cui perdo solamente ma ripeto bisogna perdere è giusto anche arrabbiarsi per la sconfitta quindi io non non condivido quelli che vogliono uno streamer o uno youtuber che non si lamenta mai che prende tutto con il sorriso perché è un falso è un falso artistico non esiste la persona che si diverte a perdere io sto imparando piano piano a divertirmi a perdere perché comunque ripeto ne apprezzo l'aspetto formativo apprezzo il fatto che magari ho perso questa partita però ho imparato qualcosa che utilizzerò nelle partite successive e nel momento in cui entra nella mia memoria muscolare sono di fatto un giocatore migliore secondo me togliere questo aspetto sarebbe terribile quindi Arada non fare cazzate per favore lasciamo i picchiaduro come sono lasciamo la sconfitta come valore formativo perché crea dei giocatori più consapevoli crea dei giocatori migliori ed è forse uno dei pochi baluardi davanti a un mercato videoludico che va sempre di più a gratificare gratuitamente le persone non standardizziamo i picchiaduro ma lasciamo intatte le cose migliori che hanno quindi non cerchiamo il mercato facile non cerchiamo la vendita facile ma cerchiamo di rendere diciamo un po' più morbido magari il passaggio io posso capire Arada perché Arada ha fatto Tekken e ieri per dire nella live di ieri mi hanno quittato 10 persone su 12 partite e quindi il suo rilievo ha senso la gente non vuole perdere semmai se proprio qualcosa si può fare bisogna cercare di valorizzare anche il momento della sconfitta non far vincere sempre tutti ma far capire alle persone che anche nella sconfitta c'è un valore magari anche in game dandogli un contentino tipo un livello di esperienza parallelo del personaggio che ti sblocca skin ti sblocca qualcosa anche quando perdi o magari più rank dare più step per valutare la propria progressione step raggiungibili facilmente e in relativamente poco tempo ma gliene dai tantissimi perché la gente non trovi troppi roadblock ma magari ha fatto lo 0.2% di progresso il gioco valuta questo 0.2% magari hai continuato a perdere però hai perso 8 partite su 10 invece che 9 su 10 il gioco te lo deve far sapere il gioco ti deve far sapere che magari hai perso comunque ma hai perso meno del giorno prima e quindi io ti devo premiare in quanto gioco perché attraverso la sconfitta ripeto sei cresciuto anche dello 0.0001% è questo che il picchiaduro dovrebbe fare secondo me perché ripeto e ho già fatto un video rant quindi non voglio rantare ulteriormente sulla master league e sulle ranked di tekken sono proibitive da un certo punto di vista ma ripeto quello è un estremo l'estremo opposto e far vincere tutti gratis o metterli in squadre così le responsabilità sono condivise e si soffre meno non è questo il discorso bisogna far capire ripeto e l'ho detto già tante volte quindi lo dico l'ultima volta che la sconfitta ha un valore formativo e deve far parte del processo di apprendimento necessariamente questa non è una regola dei picchiaduro è una regola di vita fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti che cosa ne pensate che cosa ne pensate